Pronto centrici? Io e la mia sorella vogliono sapere se fa paura, mostri. Ma no che non fa paura. Oggi, bambini, se venite, vi raccontiamo una storia che fa un po' paura. La dico io, la dico io, dai! Ma no, no, la dico io, li spaventi. Cari bambini, oggi vi racconteremo una storia che fa un po' paura. Dico io, dai, la dico io, la dico io, la dico io! Mamma, picchiano, mamma, picchiano, ma no! No, no, adesso te lo raccontiamo insieme. Ascoltate, ascoltate, bambini, così venite. Cari bambini, questa è la storia di un mostro al suo primo giorno di lavoro. Ma la storia avrà un finale a sorpresa. E cioè che alla fine il mostro ha paura dei bambini. Ma dalle, hai detto il finale. Ops. 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 Ops.